Sono Marco Catania, psicologo, e oggi sono qui per presentarti SOS Genitori, come affrontare l'emergenza Covid e la vita di tutti i giorni, una nuova rubrica targata tecnica della scuola dove ogni venerdì parleremo tramite video che usciranno su YouTube di tematiche legate al supporto appunto dei genitori per aiutarli con i figli nell'ambito scolastico e nell'ambito domestico. Inoltre sul sito tecnica della scuola.it troverai degli approfondimenti anche in versione articolo. Quindi ti aspetto ogni venerdì con un nuovo video sul canale YouTube.